ma k a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di world of warships legends qui con voi sempre il vostro taker e ragazzi siamo di nuovo soli ma stavolta ci sarà un motivo più che ovvio essendo che è settembre la scuola sta per ritornare nelle nostre povere menti noi nel frattempo facciamo i coglioni giocando a world of warships e ragazzi oggi siamo sempre con la nostra bellissima colorado e speriamo che la nostra nave o ci darà una mano una bella mano o cadremo nel colorado e quindi andremo nel gran canyon proprio di prepotenza detto queste stronzate ragazzi lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale passate sui nostri social instagram telegram e su discord il cui gruppo community lo trovate qui sotto nella descrizione e ragazzi noi ora ci vediamo in partita ragazzi siamo in partita e già ci stanno sparando manco a iniziare già ci sparano spariamo questa nave vediamo la colpiamo la colpiamo non la colpiamo si l'abbiamo colpita l'abbiamo colpita la mira sta tornando pian piano ma torna qualcuno ha pure cittadellata ottimo colpita ancora una volta ragazzi colpita nel frattempo ci stanno colpendo loro a noi richiediamo supporto perché qua se noi stiamo nella merda a meno che non la riusciamo a cittadellare questa nave noi siamo morti forse riusciamo ad affondare se ci riusciamo ci riusciamo ci riusciamo ci siamo riusciti ci riusciamo ci riusciamo ci riusciamo ci riusciamo una nave affondata ora cerchiamo di colpire questa qui più piccola che se no questa ci fa tanto male che sta anche andando a fuoco quella nave spariamo con tutti i cannoni e vediamo se riusciamo a cittadellarla almeno una volta cittadellata dai ragazzi dai forse l'affondiamo forse l'affondiamo forse l'affondiamo forse l'affondiamo l'affondiamo forse 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 l'affond battaglia finita ragazzi e signori noi abbiamo vinto abbiamo avuto un modesto guadagno essendo che abbiamo fatto un pochino schifo dovrei dire essendo che ci sono stati molti più bravi di noi in questa partita ma ragazzi noi non è che possiamo pretendere troppo da una nave che è lenta e ragazzi abbiamo fatto una partita modestamente buona ora ragazzi che ne dite un'altra partita ce la facciamo però prima di tutto mettiamo qualcosa per guadagnare qualche soldino e signori andiamo in partita ok ragazzi siamo in partita siamo in partita vai ragazzi che siamo in partita ok i rinforzi stanno arrivando i rinforzi che se non arrivano io sono morto mi piace mi piace mi piace ok cerchiamo di ammazzare ora la non ho dimenticato che pure quella di nesiluri ragazzi qua ci moriamo oggi siamo morti ci moriamo tantissimo allora ragazzi detto questo e dopo aver visto queste due partite andate diciamo bene ci salutiamo qua se il video vi è piaciuto come ho detto prima lasciate un bel like condividete iscrivetevi passate sotto i nostri social che trovate il link qui sotto in descrizione e ragazzi detto questo cappa tutti